Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo fantasmagorico video Oggi è giovedì, domani è il Black Friday Quindi tenetevi forte perché domani è il giorno pazzo per fare gli acquisti più importanti dell'anno Spendendo pochissimo Proprio in questi giorni vi sto aiutando a districarvi tra le mille offerte del Black Friday Oggi voglio parlarvi delle offerte di Prozis Che è il brand a cui mi sono affidato per la mia integrazione Prozis non fa solo integrazione sportiva In senso stretto, quindi integrazione sportiva Prima, dopo, durante l'allenamento Integratori salini, di amminoacidi, integrazione di proteine Integrazione di sali minerali, maltodestrine, zuccheri, gel barrette e quant'altro Su Prozis, e lo vedete anche dall'applicazione Potrete trovare non soltanto gli integratori ma un sacco di altre cose Tra cui una cosa che a me piace particolarmente di Prozis È l'alimentazione funzionale Ovvero la classica alimentazione di tutti i giorni Ad esempio pane proteico, pasta proteica Insomma tutti alimenti che sono funzionali alla dieta dello sportivo Ma che non possono essere definiti propriamente integratori Io ad esempio su questo particolare aspetto del sito o dell'app di Prozis Ci sto appuntando molto perché mi sto comprando molti prodotti di alimentazione funzionale Come ad esempio dolci funzionali Quindi poco zucchero, pochi grassi, tante proteine Pizza proteica, pochi carboidrati, molte fibre, molte proteine e quant'altro Insomma sull'applicazione di Prozis o anche sul sito Potrete trovare un sacco di prodotti che fanno al caso vostro Ma oltre all'integratore in senso stretto E ai prodotti di alimentazione funzionale O prodotti dietetici per coloro che vogliono stare in forma E che magari hanno bisogno di questi prodotti per dimagrire Sul sito di Prozis ci sono anche altri prodotti Come ad esempio abbigliamento sportivo Che vi ho fatto vedere nei miei video E che utilizzo per uscire in bicicletta Ci sono un sacco di cose per correre, per andare in palestra, per giocare a tennis Ma se non bastasse Prozis mette a disposizione anche un sacco di tecnologia Per la casa e per lo sport Quindi bilance, orologi, smartwatch, sportwatch, cuffie Insomma andate sul sito e troverete un sacco di cose Se non bastasse da domani fino a lunedì E per tutto il weekend a partire dal Black Friday fino al Cyber Monday Prozis dà la possibilità di cumulare i coupon Ad esempio il mio coupon DP10 sarà cumulabile con i coupon che Prozis metterà a disposizione per il Black Friday Ad esempio volete comprare i miei amatissimi pancake proteici Che trovate scontati domani ad esempio del 50% Usando il mio sconto abbinato allo sconto Black Friday Avrete uno sconto del 60% E questo vale per tutti i prodotti Dal Black Friday al Black Weekend fino al Cyber Monday Quindi se dovete comprare degli integratori Se dovete comprare prodotti di alimentazione funzionale Abbigliamento tecnico che trovate sul sito Prozis e sull'applicazione Prozis O prodotti di tecnologia che sono inerenti allo sport e al fitness Vi consiglio di utilizzare il mio codice sconto Più il codice sconto che Prozis metterà sui singoli prodotti Ok ragazzi questo video serve Vuole farvi risparmiare un pochino di soldini In vista del Black Friday Per farvi fare acquisti intelligenti Farvi risparmiare un po' di soldini Ma soprattutto puntare ad acquisti di qualità Come appunto i prodotti Prozis Ok raga per oggi è tutto Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video Buon Black Friday e alla prossima Ciao